A 40 anni dalla nascita del trio La Smorfia, il gruppo teatrale di Massimo Troisi, Lello Arena ed Enzo De Caro, la città di Napoli ricorda quell'indimenticabile esperienza artistica con tre serate in piazza Plebiscito dal 22 al 24 giugno. Presentato questa mattina a Palazzo San Giacomo, il progetto Revuoto 2018 è nato da un'idea di Lello Arena e Mario Esposito e sarà realizzato grazie alla collaborazione fra Tunnel Produzioni e il Comune di Napoli. Arriva il momento in cui ci sono persone, autorità e amministrazioni che sono in grado di dire un sì e le persone che sono qui presenti sono tutte coinvolte per la prima volta, ci sono come dei titolari della Smorfia, c'è la famiglia di Massimo e ci sono degli imprenditori locali che sono Nando Mormone e Mario Esposito, i quali si sono resi disponibili a fare una cosa insieme al Comune che sarebbe altrimenti, in termini anche proprio tecnici e commerciali ed economici, impossibile. Giusto, finché ci siamo ancora fisicamente, mettere così a disposizione, a servizio il nostro ricordo presente e vivo per certe cose, sono passati anni ma per altre cose per noi e forse non solo per noi e ieri o l'altro ieri. Quindi siamo qui anche a festeggiare quei tre ragazzi che possono forse essere un piccolo supporto, una piccola luce per tanti loro coetanei di oggi della nostra città. Le serate si svilupperanno con dibattiti e spettacoli, con testimonianze e aneddoti e con la proiezione di tre film di Massimo Troisi. Saranno anche proposti alcuni filmati inediti legati alla vita di Troisi e mai resi pubblici fino ad oggi. Nella piazza più grande di Napoli, una delle più belle d'Europa, siamo contentissimi perché sarà un'emozione straordinaria, dopo l'emozione Perpino noi stiamo ripartendo proprio dalla cultura e dalla storia della nostra città e siamo profondamente orgogliosi di questo. La partecipazione sarà gratuita fino all'esaurimento dei posti.